Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati nel nostro canale. Ora torneremo a fare una reazione a una cantante indiana che abbiamo già conosciuto poco tempo fa, che è Shreya Ghoshal, che ci aveva stupito per la sua voce super particolare, almeno per noi. Torneremo appunto a guardare una sua esibizione live insieme al Berklee Indian Ensemble, che è un collettivo di musicisti che è emerso dal Berklee College of Music di Boston. Dove appunto suonano e cantano musica indiana. Infatti qui lei canta con uno degli studenti e canta una canzone che si chiama Manipaya, che è tratta da un film del 2009. Sicuramente ci stupirà di nuovo con la sua voce molto particolare e sono anche curiosa di sentirla in duetto con un altro cantante. Non dimenticatevi però di iscrivervi al nostro canale e seguirci anche su Instagram. Quagalismo in Nestea Un'un'un'un'un'un gralli Ascari non dimenticatevi L'un'un'un'un'un gralli Un'un'un'un gralli Nesea Quali Tornare Un'un'un'un gralli Nesea Te l'ai vete, carai l'ai vete Grazie a tutti 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 Grazie a tutti